Buonasera dalla redazione ai titoli del nostro telegiornale. Mancato rispetto dell'enorme anticontagio, scatta la chiusura per un hotel di Viserbella. Per le numerose irregolarità anche sulla pulizia era già stato chiuso ad agosto ma aveva proseguito l'attività. Arimini è in regione casi stabili con un aumento della percentuale dei sintomatici. Nei test regionali sul personale scolastico numero minimo di casi ma più di un terzo viene da Arimini. Contrazione delle vendite in autunno per il 75% delle aziende romagnole lo prevede Confindustria. L'allarme del presidente Maggioli sul manifatturiero rischia di spostarsi altrove. A Coriano sospesa l'installazione dell'antenna vicino al castello Malatestiano, lo annuncia la sindaca Spinelli, si lavora con Wind per cercare una collocazione alternativa. Aveva già subito un controllo esattamente un anno fa per il quale aveva dovuto chiudere l'attività a seguito di un'ordinanza da parte del swap del comune di Rimini. Un'esperienza che non è bastata al titolare di un albergo di Viserbella che dopo aver riaperto i battenti nel 2020 sfruttando la presentazione di una nuova scia è andato incontro ad altre violazioni, tra cui alcune che le erano già state contestate nella scorsa stagione. Il controllo fatto a metà del mese di agosto dagli agenti della polizia locale di Rimini si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni da parte dei turisti. Dal sopralluogo sono emerse numerose irregolarità, tra cui mancata differenziazione dei percorsi all'interno della struttura, indisponibilità dei dispositivi per l'igiene delle mani e mancanza di polizia degli ambienti e anche della biancheria, scattate sanzioni per un totale di 12 mila euro e il divieto di prosecuzione dell'attività. Un provvedimento che tra l'altro non è stato poi rispettato. Alla fine di agosto, durante un successivo controllo, la struttura alberghiera risultava essere ancora aperta, con al suo interno ospiti e diverse camere occupate. Un'ulteriore violazione per la quale il titolare è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria. A Rimini è in regione, casi stabili. Parliamo dell'epidemia da coronavirus con un aumento della percentuale dei sintomatici. Oggi arriva anche l'aggiornamento della campagna regionale di test sul personale scolastico. Il numero di casi riscontrati è minimo, ma più di un terzo viene da Rimini. Sentiamo. I nuovi casi di coronavirus in provincia di Rimini oggi sono nove, di cui otto sintomatici, tutti in isolamento domiciliare. Cinque casi fanno riferimento a tracciamento di contatti, uno a orientro dall'Ucraina, tre a seguito di sintomi. Uno comunque era stato in Toscana e un altro in Austria. Si sono inoltre oggi verificate sei guarigioni. In regione i nuovi casi sono 110 stabili, a fronte di 1.600 tamponi in meno, oggi 8.414. E dopo giorni di equilibrio aumenta lievemente la percentuale dei sintomatici rispetto agli asintomatici. 62 contro 48. Dei 110 nuovi casi, 61 erano già in isolamento al momento del tampone e 58 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 18 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, due di rientro da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi oggi sale, è di 40,6 anni. I casi attivi oggi sono 4.277, 98 in più. Le persone in isolamento a casa in Emilia-Romagna sono 4.078, 92 in più. Il 95% dei casi attivi prosegue il lento aumento dei ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 21, 2 in più. I ricoverati negli altri reparti Covid, 178, 4 in più. Oggi la regione comunica anche l'aggiornamento della campagna di test sierologici, volontari e gratuiti per il personale scolastico di tutta l'Emilia-Romagna. Dei 14 casi di positività registrati complessivamente da fine agosto a oggi salgono a 5 quelli riminesi, 63.744 i lavoratori della scuola che hanno deciso di effettuare il test, il 66% del pubblico di riferimento. Di questi, 1.519, il 2,9%, sono risultati positivi al test e quindi sottoposti al tampone. Economia con una crisi post-pandemia che morde e l'assenza di certezze sono tante le criticità per le imprese romagnole e riminesi. Lo evidenzia un'indagine flash sulle prospettive autunnali realizzata da Confindustria Romagna. A presentarla il Presidente Maggioli che si è soffermato anche sul tema degli aeroporti, sul parco del mare e sulla scarsa attenzione delle istituzioni nei confronti del manifatturiero, il servizio. Il 75% delle aziende romagnole prevede in autunno una contrazione delle vendite mentre una su due mancati incassi da parte dei clienti. Preoccupano anche i ritardi del governo, nelle manali decreti attuativi. Come aiutare la ripresa? Sbloccando i grandi cantieri, investendo in infrastrutture e tagliando imposte e cuneo fiscale. E quanto emerge nell'indagine realizzata da Confindustria Romagna? È più facile chiudere un paese che farlo ripartire, evidenzia il Presidente Maggioli, prima di soffermarsi su criticità e prospettive locali, auspicando più collaborazione e meno campanili, a partire dalla rivalità scoppiata tra gli aeroporti di Rimini e Forlì. Il tema non è farsi concorrenza tra Rimini e Forlì, che sono due realtà rispettabilissime, ma è quello di creare in qualche modo una collaborazione. Noi stiamo cercando di fare tutto per quello che possiamo, perché questa collaborazione ci sia, per essere più forti assieme e magari appunto creare una coesione forte per rapportarsi con l'aeroporto di Bologna e anche guardare un po' fuori. Questo è l'auspicio e questo è quello che stiamo cercando di fare. Maggioli chiede poi più attenzione al manifatturiero. Le aziende riminesi spiegano difficoltà a svilupparsi, alcune attendono le autorizzazioni da vent'anni e c'è il rischio che finiscano per spostarsi in altri territori con condizioni urbanistiche e normative più appetibili. Un esodo che, secondo Confindustria, si potrebbe evitare garantendo infrastrutture, migliorando la mobilità e realizzando aree industriali attrezzate e Rimini Nord potrebbe essere la soluzione più indicata. Maggioli parla poi di turismo. Il modello va ripensato, spiega, e una risorsa potrebbe essere il parco del mare, a patto che dia spazio ora agli imprenditori. Siamo partiti, ricordiamoci, con una serie di proposte dei privati importanti che sono quelle poi di completamento, parti che devono partire mancanti per fare di quello lo scatto definitivo che Rimini deve fare per poter guardare al futuro in maniera positiva, perché non dimentichiamo che la parte mare è quella che più ha sofferto in questi anni, dove c'è tantissimo da fare e quindi i privati bisogna che siano messi in condizione di fare la propria parte e poi la facciano la propria parte perché ci sono molte strutture che non sono più adeguate per le sfide non di domani ma anche di oggi, perché quando si dice che c'erano una parte di queste strutture che non poteva riaprire il Covid, tra di noi onestamente dobbiamo dire che forse a parte il Covid non c'era motivo che aprissero lo stesso. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi alle 15.30 per l'incendio a un compattatore rifiuti solidi nell'isola ecologica era in via Macanno a Rimini. A far partire l'incendio era stato del materiale all'interno del compattatore e dopo aver individuato il punto esatto della combustione con una termocamera il compattatore è stato raffreddato con acqua sia all'interno che all'esterno come vediamo dalle immagini. La zona è stata mantenuta in sicurezza in attesa della motrice della ditta abilitata che ha permesso di svuotare il contenitore e spegnere le bracci. I vigili del fuoco, intervenuti con 9 unità e 2 mezzi, sono rientrati dopo circa un'ora. E c'è un cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Rimini. Dopo tre anni, che lo stesso ha definito intensi e formativi, il colonnello Giuseppe Sportelli saluta Rimini. Da lunedì si trasferirà a Roma per ricoprire il prestigioso incarico di capo di Stato Maggiore della prima brigata mobile di stanza a Tor di Quinto. A prendere il suo posto sarà il colonnello Mario Lamura. Ascoltiamo le parole del comandante Sportelli rilasciate questa mattina al termine dell'incontro di saluto con la stampa. Rimini, io dico sempre un po', diciamo per noi, delle forze di polizia, è una sorta di università. Dal momento che Rimini ti presenta tante situazioni, ti presenta la gestione di tanti eventi e quindi ti mette di fronte, come posso dire, al dover gestire, a prendere delle decisioni che magari in altri territori ancora non si sono verificate, ancora non si sono presentate. È un'attività che ci ha visto sempre al servizio e vicino ai cittadini. Cittadini che, devo dire, hanno sempre risposto positivamente. E questo è l'aspetto, diciamo così, più bello della comunità romagnola, della provincia di Rimini. Perché? Perché questi cittadini ci sono stati vicini. Ci sono stati vicini, ci hanno consentito quindi di risolvere tante problematiche, di affrontare tante situazioni, di conoscere tanti problemi che ci sono. Noi ce l'abbiamo messa tutta per poter risolverli e per poterli essere vicini. L'esperienza del coronavirus a Rimini, nella provincia di Rimini, dove sin dall'inizio ci siamo trovati a dover fronteggiare una situazione nuova, una situazione imprevista. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo messo fuori la nostra esperienza che avevamo sul campo. Devo dire e ringrazio tutti i miei carabinieri che sono addirittura rientrati, chi era in licenza, chi era in ferie, rientrato in servizio, quasi come, posso dirlo, in atteggiamento di guerra. Tutti ritornati al comando, tutti pronti ad agire, ecco, pronti sul territorio e a servire il cittadino. Per permettere il collaudo in vista dell'assetto definitivo di mezzi e tracciato, dal 21 al 25 settembre il servizio del metromare sarà sospeso. Nelle giornate interessate saranno potenziate le linee 124 e 11. Intanto il Presidente della Provincia Santi annuncia i primi correttivi per il trasporto scolastico, un potenziamento sulle linee per Nova Felte e Morciano, con un'ulteriore corsa all'orario di uscita e, sempre per il metromare, una corsa bis alle 12.10. Parliamo delle antenne della telefonia mobile. Ieri l'assessora all'ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini, ha detto che si è sulla buona strada per spostare l'antenna di telefonia da Via Baroni a Viserba ad un'area decentrata. Il tema delle antenne 5G tiene banco oggi a Coriano, dove sono stati sospesi i lavori per l'installazione della nuova antenna Wind che avrebbe dovuto sorgere non lontano dalle mura del castello. Sindaco e azienda torneranno ad incontrarsi tra una settimana per la valutazione di possibili luoghi alternativi. Il servizio. Il basamento per il pilone intanto è stato completato. Motivi di sicurezza, spiega la sindaca di Coriano Spinelli, ma la ricerca di collocazioni diverse da quella vicina alle mura del castello Malatestiano per la nuova antenna Wind a Coriano prosegue e aziende e comune torneranno a discuterne tra una settimana. Un dialogo cercato, spiega la sindaca, per evitare in pratica il muro contro muro che vede comunque vincitrici le aziende di telefonia in questi casi. La legge nazionale batte i regolamenti comunali e così se per l'installazione in una nuova antenna considerata infrastruttura di pubblica utilità ci sono tutte le autorizzazioni del caso, ARPA, ENAC, sovrintendenza, il comune deve rilasciare l'autorizzazione, dice il decreto semplificazioni. Al massimo si può trovare un luogo alternativo. Un copione che si vede ripetere da tempo su e giù per l'Italia. Il sindaco blocca tutto, fa ricorso al TAR che boccia il ricorso. Una frustrazione amministrativa che la Spinelli nei giorni scorsi insieme ad altri primi cittadini italiani ha espresso in una conferenza stampa Roma con l'alleanza Stop 5G. Proteste da una parte, ricerca di soluzioni con le aziende dall'altra, di cui gli incontri che proseguiranno per individuare 13 siti alternativi a Coriano, alcuni già ipotizzati in passato altri nuovi. Su questi 13 posti stamattina ci siamo confrontati. Loro hanno messo sul tavolo la disponibilità appunto a rivedere il tutto e l'antenna assolutamente al castello non verrà posizionata e ci riconfronteremo tra una settimana. Uno Stop, quello del castello, zona cimitero, cui non plaude il Comitato per la tutela del patrimonio ambientale e culturale di Coriano, secondo cui Wind sarebbe stata fermata in extremis quando aveva ormai in tasca pareri favorevoli e autorizzazioni. Allestimento in corso a Savignano sul Rubicone per idee, titolo della 29esima edizione del Sifeste, il festival della fotografia che si svolgerà da domani a domenica. Alla vigilia del taglio del nastro, nel giorno che sarebbe stato il compleanno del fotografo Marco Pesaresi, abbiamo fatto una visita in anteprima ad alcune delle mostre. Vediamo. È dedicato all'identità a partire da quella dei Savignanesi il Sifeste 2020, unico festival di fotografia d'Italia a svolgersi nonostante le fatiche del momento, pronta ad inaugurare la sua tre giorni con mostre all'aperto e nei luoghi storici della città. Abbiamo riflettuto sulla normalità, su noi stessi, abbiamo avuto molto tempo per fare tante cose e proponiamo questa riflessione diciamo così andando a studiare e a riscoprire gli archivi storici di Savignano soprattutto sui censimenti che sono stati fatti da grandi fotografi. Sarà molto divertente credo per i Savignanesi potersi ritrovare, poter ritrovare figli, nipoti, genitori, parenti, case e via in un'installazione di quasi 7.000 fotografie che era stata realizzata esattamente 20 anni fa. Non solo questo, abbiamo anche invitati i Savignanesi a potersi riprendere una fotografia di 20 anni fa per riportarsela a casa. In cambio chiediamo a questa persona di scattare una nuova fotografia da Savignano all'Europa per trattare il tema dell'identità nelle sale dell'ex consorzio di Bonifica con il progetto IDE di cui il comune del Rubicone è capofila. A me ha colpito molto il concetto dell'identità associato nel caso di Savignano alle donne migranti quindi a come la loro identità venga alterata e modificata dal viaggio che intraprendono e da come poi si creano una nuova vita in Italia. Invece a Copenhagen mi ha colpito durante il periodo delle elezioni come il rapporto tra popolazione e politica cercasse di alterare appunto il senso di identità e appartenenza a vicenda quindi politici tramite la propaganda elettorale e la popolazione oltre che col voto reagiva manipolando i manifesti elettorali. Il Sifest ha voluto mettersi in dialogo anche con quanto accaduto negli ultimi mesi grazie agli scatti realizzati dai fotografi del collettivo Cesura durante il lockdown. L'intento è quello di raccontare quello che abbiamo vissuto che abbiamo visto sia come fotografi sia come esseri umani cercando di distaccarsi un po' dal forte rumore di fondo mediatico che ha un po' assordato tutti con una visione più forse più profonda e più con una sensazione più poetica e di riflessione. E tutto vi ricordo per gli aggiornamenti il nostro sito newsrimini.it dalla redazione e grazie per l'attenzione. Buona serata.